negli episodi precedenti bella ragazzi bentorni ai tuoi telegramas questo è un video c'è il pareggio il pareggio è subito il cambio oh no 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 non ci posso che meno male 1 a 0 2 a 0 forse arriva la prima vittoria oh 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 mortacci 2 mortacci 2 mortacci 2 no 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 ma che cosa ci prega siamo guatti siamo in zona champions siamo in zona champions siamo in zona champions tra 5 partite finisce la rendata now say my name dobbiamo ancora contro la varsina suarez la parata morde l'avversario no 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 morde l'avversario e se ne va ci sono saltato sopra il mio morde l'avversario e se ne va grazie l' oh grande suarez gigi bam furbo suarez macchina e rimane in porta stinfame elemerda no 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 faccio oh vedi che sei uno stupido per fa cosi valutiamo 2 a 0 1,2,1,1 dai 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 che è? Allegri dai 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 oh vacce no 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 il goal non va vacci di testa la devi vincere portacci tua interrompe il niger con la scella di vittoria del West Ham è arrivato un momento in cui il West Ham deve riprenderci 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 no perché vai a vuoto mamma mia devo migliorare i salti eeeh non va e di nuovo Mamma mia che gol Incredibile Vai così Vai di testa Esagerato Cazzo se l'è fatto da solo Se l'è fatto da solo No cazzo non ho saltato Ma dove vai? Non fa niente ti do anche un altro gol Siamo sempre i quarti 18 punti Contro il Manchester United Il tiro 1 a 0 Questo ho che impegnasse No ma perché Ancora non va Ancora non va Ma porco due Il pareggio c'è non c'è Ma come cazzo fai a saltare addosso all'abrizzario Oh vedi dai Questi sono i bug Sono contro la società Chiedono le sonero Chiedono a far un gran voce le sonero Mori male però Vaffanculo Ora abbiamo per sicuro il quinto posto Dobbiamo riprendere la lotta champions Arsenal Arsenal Questa è gol Bam 1 a 0 1 a 0 Bam 2 a 0 2 a 0 1 a 1 Io l'ho detto 1 a 1 1 più 1 L'ho detto 1 a 1 Eccolo Vedi si concentra Si concentra Non va comunque Va 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 Ma mamma mia ragazzi Questa è un big match Un big match È un big match Si alza il pallone per andare di testa Per andare al 3 a 1 Perché no E anche qua Arsenal Anni Chi lito Ma quanto gli piace sta parola Anni Chi lito Vai che stiamo sentendo Siamo ritornati quarti Vediamo il terzo posto E possiamo vedere anche il secondo Ma il primo Non lo vedremo mai West M contro West Brom Ma Ma Mazzate il gol Bel gol 2 a 0 Eccolo Il 2 Che culo Il 2 Il 2 Il 2 Il 2 Il 2 Il 2 0 E ancora il 3 a 0 Eccolo Il salto di testa Non va Ancora Non va Di nuovo 3 a 0 3 a 0 Incredibile Questa è quanta grinta Quante cappellate sta facendo ora Boh I dai calci L'arbitro Non ravvisa il pallo E ora C'è però il vantaggio Tipicolo Il West Brom Ma ancora Il West M Non dai mordi Prova il pallonetto Da lontanissimo Non va Il tiro Stiamo segarmi eh Sotto la traversa Che bel gol Che cazzo hai fatto Meno male che lui ha pellato Vai 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 Ha pellato Il padre di Jackson L'ho rilotto sotto un tetto No Il Jackson Siamo terzi Siamo terzi Il Chelsea lo possiamo riprendere Comunque ragazzi Partita 19 Io vorrei fare E' finita l'andata E' finita l'andata Siamo a ritorno Questa è la situazione Questa è la situazione dopo l'andata Situazione che ci vede quasi impossibile riprendere Il terzo posto Il primo posto A meno che